Cristiano Ronaldo alla Juve non è più una mera fantasia calcistica di metà estate, è realtà e a giudicare dalle cifre in ballo, piuttosto essuosa per la vecchia signora che ha sborsato 112 milioni di euro per il trasferimento dal Real e ne tirerà fuori altri 60 a stagione per i prossimi 4 anni. A proposito di soldi, pare che il fenomeno portoghese abbia diversi problemi con il fisco spagnolo, preoccupazioni economiche che dovrebbero risolvere il prima possibile pena il sequestro dello stipendio. Secondo quanto sostiene Premium Sport, che cita alcuni giornali iberici, CR7 deve fronteggiare una situazione delicata col fisco, con cui il mese scorso ha patteggiato una multa di 18,8 milioni di euro e due anni di condanna con la condizionale. L'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate Spagnole ha riflettuto sul fatto che le pendenze del calciatore incideranno sul contratto con la Juve. Se il pallone d'oro lasciasse la Spagna prima di aver saldato i suoi debiti, allora, a causa di un patto tra Roma e Madrid, potrebbe subire il sequestro del compenso fino a che non regolarizzerà la situazione finanziaria.